Non ti ricordi quel mese d'aprile, quel lungo treno che andava al confine, che trasportavano mignaia degli arti, su, 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 correte, è l'ora di partire. Dopo tre giorni di strada ferrata ed altri due di lungo cammino, siamo arrivati sul mondo e cammino, cammino. E al cielo sereno ci tocca riposar. Se avete fame, guardate lontano. Se avete sete la tazza alla mano. Se avete sete la tazza alla mano. Ma non che ci, che ci rinfresca la nieve ci sarà. Grazie. 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 Grazie.